E' la prima volta che il Consiglio Comunale si riunisce fuori dalle mura di Palazzo Marino e per questa prima trasferta è stato scelto il carcere di San Vittore, dove vivono 4.500 detenuti in condizioni di pesante sovraffollamento. Nel raggio 4 i 35 consiglieri presenti si sono seduti fianco a fianco, senza divisioni e schieramenti, per votare la delibera numero 76, presentata dal consigliere Bertolè, che prevede l'istituzione della figura del garante delle carceri, con il compito di fare da tramite con la città e garantire i diritti dei detenuti. Con molta concretezza e senza sentimentalismi, come ha detto Pier Francesco Maiorino, al cui assessorato ai servizi sociali si appoggerà la nuova figura, che oggi ha avuto il via libera e che sarà nominata dal sindaco entro 15 giorni. Il garante è chiaramente uno strumento di garanzia, cioè dove i detenuti possono rivolgersi, rivolgere le istanze e le situazioni in cui credono di subire un disagio, un'ingiustizia, e il garante può attivarsi presso le istituzioni per risolvere queste problematiche e denunciarle. Consiglio bipartisan perché riteniamo tutti che nel carcere ci debbano essere condizioni più civili, più civili e più umane, sia per i secondini che per le persone che sono rinchiuse in carcere. Quasi unanime la votazione per alzata di mano, 34 voti favorevoli e un astenuto, il consigliere a bagnale del PDL. Presenti alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale anche alcuni detenuti, uno dei quali ha preso la parola per ringraziare dell'attenzione e ricordare che loro non sono un corpo estraneo. Vorremmo sapere nel corso di questo primo incontro se è possibile delineare meglio il ruolo del garante che tuteli i diritti di cittadinanza del detenuto.